Ho fatto e lui è andato Cioè tu hai fatto l'autografo al pallone che aveva Michael Jordan per suo figlio Per suo figlio Ma beh, questo è incredibile E quando lui è andato Passa dal basement, passa dal basement, passa dal basement Passa dal basement Ciao a tutti bella raga, benvenuti in nuovo appuntamento, nuovo Passa dal basement Io sono sempre Gianluca Gazzoli, quindi sì, siete sul canale giusto Se vi va insopra soprattutto di sentire storie interessanti O argomenti che possono essere interessanti per voi O scoprire cose che magari non sapevate Io sono molto contento perché l'ospite di oggi Devo dire che in realtà io parto sempre dicendo che sono molto contento Perché effettivamente gli amici che ci vengono a trovare qui sono degli amici super In particolare oggi sono contento Perché insomma il tema di cui andiamo a parlare è una mia grande passione Ma in realtà ci sono tante cose da scoprire Soprattutto su questa persona Perché ancora, devo dire, non era ancora capitato Che a questo tavolo si sedesse un campione NBA Cioè Linton Johnson! Grazie, grazie Sono molto contento di vederti Io sono molto contento Linton perché ci siamo sentiti Iscritti tante volte Visti a distanza Come si usa a fare ultimamente con le call Come si dice in questi casi Perché tu in realtà non vivi a Milano Ma vivi al sud In quel di? Caserta In Caserta In Caserta In Caserta È una città molto diversa di Chicago Iniziano tutte e due con la C ma Chicago e Caserta sono un po' diverse Però per l'appunto in realtà ci siamo visti già questa mattina Perché abbiamo partecipato entrambi tu in maniera attiva diciamo a un evento molto bello Organizzato da NBA e FIBA Che si chiama Basketball Without Borders Without Borders Dove abbiamo visto, anzi avete visto, avete allenato diversi nuovi prospetti futuri Diciamo giocatori che potrebbero fare grandi cose nel basket nel mondo Sì, no, questo è un evento che io ho fatto anche nel 2008 Sì In India Per qualcosa che è bellissimo Dentro questo evento abbiamo fatto quasi 100 ragazzi che andate a giocare in NBA Ok Però purtroppo che abbiamo fatto questo evento qua in Milano Sì Abbiamo solo tre italiani Ok, solo tre c'erano oggi? Sì, pochissimi Sì, come mai? Perché ci hai pensato? Adesso tu ormai vivi in Italia da quanti anni? Eh Quanti anni? Questo è 12 12 anni? Sì, ho cominciato nel 2010 Ok, ok Ormai ti sei fatto un'idea di quella che è la situazione in Italia Io lo so, chiaramente, guarda, io stavo parlando oggi perché qua in Italia noi pensiamo solo di vincere Sì Questo lavoro di sviluppare, ragazzi, noi non facciamo Ok E perciò io sono arrivato qua per dire in NBA dobbiamo fare qualcosa in più in Italia di spingere il proprio basket Ok Perché ci sono tanti ragazzi bravi, ok? Sì Però dobbiamo fare il lavoro veramente di sviluppare questi ragazzi da la menta, ok? Perché, per esempio, c'è un ragazzo che ho visto oggi Suo primo tiro Sì Ok E io ho detto qualcosa Io ho detto, oh, per dirlo che io ho visto che tu hai fatto un airball Secondo tiro, lui ha segnato, però non mi ha guardato E io ho detto a lui, dopo che tu hai segnato questi tu devi guardarmi come un sfida che io posso segnare questi E questa è una mentalità che tu devi avere in ogni senso, in ogni tempo E lui viene da Sweden, come dice Sweden? Sfida? Sì, sfida No, Sweden Come dice Sweden? Ah, Svezia Svezia Ok Per un americano, noi vediamo tutti i ragazzi che vengono da Sweden Sì Sono soft, ok? So questa è una mentalità che tu devi avere, tu devi essere aggressivo sempre Sì Il discorso è, che cosa è la differenza? Dobbiamo essere più aggressivi per giocare a livello più alto, ok? Ok, ok E un discorso che... Beh, c'è sempre questo discorso del giocatore europeo soft rispetto al... Quindi è vera questa cosa o c'è qualche eccezione anche? Allora, guarda Gallinari è un... guarda, lui è un grande Sì Stavo parlando con lui proprio di questi... Questa mattina appunto c'era anche Danilo Gallinari nel progetto Lui sono l'unico adesso Sì E diciamo che lui è migliore italiano Per lui stavo raccontando che quando lui ha fatto basketball Sì, era piccolissimo, mi ha detto Era 2003 Sì Ok, loro ha fatto un lavoro nella mattina e anche a sera Qualcosa più duro Quest'anno loro solo hanno fatto nella mattina Questo può dire che loro stanno facendo un lavoro più soft, ok? E lui ha detto quando erano giovani, ogni volta quando lui ha fatto uno contro uno Lui sempre ha vinto E anche oggi quando lui ha fatto olimpiari, lui sempre vince contro i giovani, ok? Ok, ok E questo discorso deve essere veramente... è un cattivo Sì Un monster, ok? Per confrontare... Beh, tu hai questo modo di fare molto motivazionale anche in alcuni casi Devo dire che ultimamente una delle cose che mi ha colpito di più ultimamente è sicuramente il lavoro incredibile che stai e che state facendo Qui c'è anche chi ti aiuta in questo grande progetto che è utilizzare i social in un modo ben preciso E devo dire appunto che la tua storia è quella di un giocatore NBA Quanti anni hai giocato in NBA? Solo sette Sette anni in NBA Tra cui, insomma, anche un titolo perché sei... hai fatto parte degli Spurs che hanno vinto il titolo Quello del 2000... 2005 per l'appunto Quindi, insomma, di cose... ne hai viste Poi, sei venuto a giocare direttamente in Italia o ci sono stati degli altri passaggi? No, 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 sono arrivato qua direttamente da Orlando 2009-2010 ad Avellino Ok, ok Avellino, grande piazza per gli appassionati in quel momento Cioè, nel senso, c'è un grande tifo per il basket ad Avellino Sì, sì, c'è energia di giocare al basket lì Hai avuto modo di conoscere Gamon? Conosci Gamon? Chi? Gamon, è un cantante, un artista, un rapper, un musicista italiano di Avellino, molto appassionato di NBA, di basket Sì, no È un amico e dovevo farvi incontrare Perché poi... e lui mi ha spesso raccontato, insomma, di quando andava a giocare a vedere, più che altro, le partite ad Avellino ed era veramente focoso Sì, per forza, vi siete incrociati E sui social, ultimamente, soprattutto su TikTok sei riuscito a importi in qualche modo a portare il tuo modo di vedere il basket a parlare direttamente ai ragazzi A me è colpito questo perché nessun altro in Italia giocatore o ex giocatore era riuscito a fare una cosa del genere Fai un sacco di video dove spieghi anche le tecniche di gioco Fai un sacco di video in cui anche sproni i ragazzi a uscire di casa andare al campetto a giocare e questi video stanno funzionando tantissimo Io, mentre oggi ti racconto questa cosa Mentre stavo venendo questa mattina all'evento, alla Bocconi in questa palestra, tra l'altro bellissima, ragazzi Bellissima, no? Sì, sì, anche lì c'è un problema di base secondo me la palestra è bellissima ma credo che sia l'unica in Italia a un livello così alto quindi anche quello sulle infrastrutture in Italia Bisognerebbe lavorare tantissimo, soprattutto sul basket Mentre arrivavo lì, mentre stavo attraversando la strada vedo una macchina che inchioda e scende questo ragazzino e la mamma Dove vai? Cosa fai? Eccetera Arriva verso di me tutto tremando A me mi ha fatto molto piacere Mi chiede di fare una foto Noi facciamo una foto No, ma io adesso sto cercando Linton Sto cercando Linton Johnson Lui ha detto che finisce alle 13 Guarda, io sto andando lì adesso, sto andando con lui Ah, no, bene E questa cosa l'ho visto anche sui social Quando ho iniziato a fare questo Questo passo dal basement o altre cose Parlando io di basket, spesso anche sui miei social Ogni volta ovviamente mi nominavano Mi facevano il tuo nome Proprio perché negli ultimi mesi C'è stata questa grandissima anche esplosione Dei tuoi contenuti Io ci ho visto Ed è il motivo per cui Molti secondo me in Italia ancora non l'hanno fatto E' proprio perché tu sei americano Cioè nel senso che c'è quel tipo di mentalità Nel saper stare davanti a una telecamera E nel sapere anche come utilizzare questi strumenti Allora, guarda, io voglio essere proprio una voce per questi ragazzi Quando si gioca a basket Riesci a capire che cosa devo fare per affrontare i problemi Lo stress E questo è proprio il mio lavoro sul campo Perché quando io stavo giocando con Juve Cassetta L'ultimo anno per capire come ho cominciato su questa strada Io stavo facendo l'elemento nella scuola Si chiama Seleziani Ok, certo E all'improvviso quando io stavo facendo il lavoro da solo C'è un piccolo ragazzo che stava seguendo tutte le azioni che io stavo facendo E in quel momento io ho detto Cazzo, è tempo di trasmettere qualcosa a nuova generazione Certo Quando ho cominciato con i ragazzi ho visto subito che questi ragazzi soffrono fisicamente Ok, e non riesce a fare un paragone con i ragazzi americani So questo era prima di Covid Io ho cominciato a fare questi video Delle cose che io faccio nella mattina Prima di cominciare il mio giorno Esercizi Perché in Italia, ok Se tu vai a chiedere a un ragazzo a che ora tu vai a svegliare Tutti dicono alle 7 Per preparare di andare a scuola Il mio discorso, no Tu devi svegliare almeno 30 minuti prima Almeno 30 minuti di fare 20 minuti di esercizi Di prendere un vantaggio Ok È cominciato così E quando i ragazzi riesci a capire Guarda, questo è qualcosa Anche Colby ha fatto a svegliare 4 ore e mezza, 5 ore e mezza Di fare un lavoro, di prendere un vantaggio Loro riescono a capire che cosa devo fare di prendere un vantaggio Quando ho cominciato a prendere questi messaggi di ragazzi Di guarda, io ho stress Io ho paura Io sento inutile Io ho detto guarda, io devo usare il basket Con qualcosa più grande di solo un gioco Ok Perché quando qualcuno riesce a giocare il basket Riesce a superare ogni ostacolo Questo discorso di essere un monstro Ok Sì Nella vita c'è sempre un problema Devi aggiustare quello C'è un problema con figli, mogli, soldi Però quando tu riesci a un monstro Di iniziare aggressivo Di combattere qualcosa Questa è la felicità Ok Perché tu ti dici Ah io devo sentire felice Devi fare No Tu devi essere un monstro In un certo modo Di essere aggressivo E così riesci a andare avanti A superare gli ostacoli Perciò io faccio questo video Un ragazzo del manager E questo sta andando benissimo E questo vale sia nel gioco Che nella vita Perché poi lo sport E se io spesso lo utilizzo Come grandissima metafora Perché per ogni cosa Lo sport può essere una metafora Per la vita È proprio questo È proprio questo È un modo di sviluppare È una persona di confrontare L'ostacoli Certo E questo è E a me l'altro motivo L'altra risposta Che mi sono dato Anche al successo Che stai avendo Nell'ultimo periodo Anche perché appunto Credo che stai avendo più successo Adesso che da giocatore In Italia Come popolarità No Tu hai un'idea Guarda io stavo raccontando Che adesso Io sono più famoso Sì Sì Però quando io vado fuori C'è sempre qualcuno Posso fare un foto Posso fare un autografo Però oggi Ringrazio Social Io sono più famoso Veramente No no È incredibile Anche perché ti ci sei potuto Dedicare di più Prima dovevi ovviamente Dedicarti a giocare Quindi magari Però non c'è mai stato nessuno E non c'è tuttora nessuno Che lavora su questo secondo aspetto Per quanto riguarda I giocatori Perché i giocatori È vero Devono pensare a giocare Ma l'NBA È forse la più grande realtà Che ti fa capire anche Che anche i giocatori Poi hanno delle storie Da raccontare Vengono raccontate Il marketing Il personal branding E tutte queste cose Molto americane Ma che in realtà Fanno parte anche Dell'Italia La cosa che appunto Dicevo che mi ha dato un po' La risposta Anche un po' Al successo che stai avendo È quella che I ragazzi hanno bisogno Cercano una voce E per mesi Anni Ma generazioni Non l'hanno trovata Cioè non riescono a trovare Qualcuno Che magari riesce A raccontare O a sentire Quello che loro vorrebbero sentire Guarda Qualcosa che è molto Anche quando io stavo Giocando in NBA Quando io faccio Campo estivi Ok Io non sono stato Lavoro di basket Perché tutti i ragazzi Fanno queste domande Di quanti soldi tu hai Quante macchine Io voglio Io voglio questi E ho detto guarda Io non voglio essere Una persona Che solo vai a mostrare Che soldi Che io E perciò Ho cominciato un lavoro Nel mio campo estivi Di come può mangiare bene Allora come può fare Con una ragazza Di sesso Abbiamo parlato di sesso Di soldi Che investimento Devi fare Ok È la stessa cosa qua Quando io faccio video Io non faccio video Di dimostrare Quanti soldi ho Ok Io voglio essere Un povero Però devo dimostrare Che lavoro Devi fare Per essere Un grande Perché Se Giocatore Che noi facciamo Questi video Che io sono ricco Sì Può creare Un Desiderio Sì Un desiderio Di avere qualcosa Senza capire Che lavoro Che devi fare Sì E questo è qualcosa Che io faccio A posto Perché Un ragazzo Deve capire Anche lui Può fare Qualsiasi cosa Se lui Pensa che lui È speciale E lui Riesce a capire Che è lo buono Deve fare Guarda Una cosa Che ha detto Un altro ospite Che è passato A trovarci Che lui In realtà Si occupa Di tutt'altro Di aiutare i ragazzi Che Giovani Che finiscono in prigione Diceva Che la cosa Che più riscontrava Nei ragazzi Era Questa cosa Del Non credere In loro stessi Non avere Per niente E fiducia In loro stessi Loro sono brutti Loro sono scarsi Loro E nessuno Li aiutava Nel credere E loro E quando trovano Qualcuno Invece Che li aiuta Poi diventano Delle persone Migliori Devo dire Guarda È qualcosa Che ho scoperto All'improvviso Stavo facendo Un video Di dimostrare Come io sono Unico Unico Ho cominciato Ho detto Guarda Io sono nero Ci sono tanti neri All'improvviso Ho detto No Io sono nero Che parla italiano E ho detto Caspio Però ci sono tanti neri Ci sono africani Che puoi parlare italiano E poi ho detto Guarda Io sono nero Che parla italiano Che hai vinto Un anello di NBA All'improvviso Io sono l'unico Cioè Solo Kobe Questo era Tre anni fa Certo E guarda Veramente Io ancora soffro Il fatto che Kobe Non c'è Perché Anche ci spiego Cose diverse Di queste E poi ho aggiunto Che io sono nero Che parla italiano Che hai vinto Un campione di NBA Che sono laureato Di economia Ho detto Oh All'improvviso Io sono l'unico Io sono speciale Hai stretto il cerchio Sì E se tu riesci a vedere La tua uniqueness Ok Puoi sentire speciale Di qualsiasi cosa Che tu fai Questo è fighissimo Tu rendi conto? È vero È vero È fighissimo Ogni cosa che io faccio Io sono speciale Nessuno nel mondo Può fare E ognuno di noi Ce l'ha Questo cerchio Da stringere Sì È un gioco Di parole Però è qualcosa Vero Sì Sì È vero Questo è Veramente Figo Ed è figo Insomma Riuscire a trasmettere A più persone possibile I social oggi Lo stanno permettendo Poi l'altro motivo Secondo me Anche per cui Anche i tuoi contenuti Sono così forti È che Hai questo modo Di parlare italiano Da americano Da americano Che è ipnotico Io so starei ore Ad ascoltare Linton che parla E che ci dice le cose Perché è incredibile L'unico che faceva una cosa del genere Che ha conquistato l'Italia Tanti anni fa È stato Il coach Dan Peterson Amici sportivi Buongiorno Lui è stato Ed è tuttora incredibile Quindi Insomma Ti fa venire Sempre più voglia Di guardare E di ascoltare Quello che hai Quello che hai da dire E Questo è forte Questo è davvero forte Tra le varie cose Appunto Che stai facendo In questo periodo Qual è quella Che ti sta dando Più soddisfazione No Di vedere Ragazzi Che vengono a me All'interno Ho cominciato a giocare E anche se io gioco calcio Io gioco baschi Anche se io vado A giocare tennis Un ragazzo che viene a me Stamattina Io sono svegliato A fare esercizi Ok Un ragazzo viene a me Get in the game Perché loro capiscono Anche questo è incredibile E qualcosa Guarda Tanti ragazzi Perché è un movimento Perché get in the game Significa Perché Adesso devo spiegare proprio Siamo nati di perdere E nel senso Dobbiamo morire Non è niente che tu puoi fare Dobbiamo morire E quando qualcuno Vai a morire Hai perso Abbiamo perso Io ho perso mia mamma Ok Sua partita è finita Però Durante la vita Tu devi provare qualcosa Perché quando tu rendi Guarda Io già ho perso Tu non hai paura Di partecipare E quando qualcuno Metti in gioco Quando qualcuno Cominci a fare qualcosa Già ha fatto qualcosa Grande Già ha vinto Ok Noi viviamo di vincere Ok Perché tu perdi Sicuro Non neanche devi pensare Questi qua Ok E quando tu lasci stare Guarda Io vado a perdere Adesso è tempo di vincere Adesso è tempo di partecipare Dove andare a paura Vai via Dove dare questo stress Vai via Anzi è qualcosa Che sta qua Per aiutarti Anzi è qualcosa Per chiederti Ma tu hai fatto Di compiti Ma tu hai mangiato bene Ma tu sei pronto Tu devi fare un lavoro Con ansia Ok Di partecipare Non devi essere Paura di ansia Ok E questo è Non è facile Perché tu ovviamente Come la dici a volte La fai sembrare facile Io ragiono molto come te Quindi mi ci ritrovo molto E delle volte Effettivamente poi qualcuno Quando faccio anche io Magari dei discorsi del genere Ti dice Eh vabbè facile Tu la fai facile Perché di su Perché di giù In realtà è proprio Parliamoci di questo Di parlare una nuova lingua Io sbaglio sempre Ok È difficile per me Perché io sono americano Io parlo perfetto In inglese Però il fatto che io sbaglio Questo è difficile per me Perché io so Che per crescere Devi sbagliare Devi sbagliare E io sto sbagliando Però ogni giorno È un motivo di migliorarmi Ok Se ti conosco cinque anni fa Noi non possiamo fare un'intervista Perché cosa? Cosa ho detto? Allora non ho capito Può ripetere Certo Però adesso posso fare Perché sto sbagliando Con un motivo di migliorarmi Migliorarmi E questo succede automaticamente Quindi se si prova Ce la si fa Tornando invece Alla tua carriera Da giocatore Quando hai iniziato A giocare in NBA Com'è andata? Tu sei cresciuto a Chicago Che è uno Comunque al di là Che uno pensa a Chicago Pensa a Bulls Pensa ai Jordan Credo che il tuo mito Sia stato anche per te Michael Jordan Perché comunque Sei cresciuto in quel periodo lì Però è anche una delle città Più difficili Che ci sono in America In alcuni quartieri In alcune zone Non è facile Io mi ricordo Perché il mio ricordo È sempre molto legato Anche a Derrick Rose Che raccontava La sua infanzia In alcuni quartieri di Chicago Il fatto che la madre Lo avesse molto protetto E anzi il basket Lo avesse aiutato Ora io non so Qual è la tua storia Invece personale Ma come sei arrivato A giocare a basket E poi ad alto livello No Honestamente Ok Derrick Rose Lui viene da sud Chicago Ok Southside The Hunnets Pablo può dire Chiaramente Honest Ok It is what it is Pablo Trincia Sì sì E guarda Io vengo da Westside Allora Mi non piace parlare Di brutte cose Perché Chicago è una città Bellissima Ogni parte Ha il suo problema Però qualcosa che è interessante Di Gangs Ok Mio zio Lui ha giocato in NBA Ok So Lui ha giocato 12 anni E Siamo stati una famiglia Diciamo Grande Dentro il nostro neighborhood Ok E proprio Gangs Era un gruppo Che mi ha Protettato In un senso Ti ha protetto Sì Ogni volta Quando noi giochiamo fuori Loro va a proteggermi Per dire No Lui sta andando Davvero Più alto Sì Perché io dicono Quando io ero un ragazzo Io Mi sempre piace Di fare Le cose con i miei amici Ok Stavo facendo le droghe Però loro hanno detto Guarda Tu non puoi stare qua Perché tu hai un futuro Ok Perché loro vedevano già In te il futuro Come giocatore Sì E anche abbiamo Famiglie più importanti Certo È un ambiente Di proteggermi Certo Non è niente Di essere paura Sì Ok E io ho usato Queste diciamo Energia Non Non avere paura Di nessuno Proprio dentro Il gioco Di basket Ok E io sono stato Un giocatore Molto conosciuto Di mia Aggressività Intensità Sì E ho cominciato Veramente 2003 Con Chicago Bulls E era Lo stesso squadra Che mio zio Ha cominciato Con Chicago Bulls Era qualcosa Molto interessante Perché io non ho fatto Draft Come tutti I giocatori Fanno Io Quando ho finito Il mio quattro anno In università Io sono tornato Di laurearmi E sono andato Un anno Senza giocare Ok E dopo un anno Qualcuno Va a perdere Il suo nome So quando io sono tornato In Chicago Senza nome Ok Ho fatto questo torneo Di uno contro uno Streetball Quando ho visto Quando ho vinto Questo torneo C'è un elettore Di Chicago Bulls Ha detto Ho sentito Che tu hai vinto Questo uno contro uno Vieni a giocare Con noi A Chicago Bulls Ah Così è andata Perché che anno Loro ha cominciato A fare l'elemento Prima Di pre-season Ok Quando sono andato lì Ho cominciato A giocare bene Con Eddie Curry Tyson Chandler Certo E proprio che anno Era l'anno Che l'NBA Ha cominciato Un minicamp Era l'unico anno Un minicamp Era qualcosa Di cominciare Di proprio Pre-season Ok Quando io sono Andato lì Ho giocato bene E' arrivato Scali Pippe Ah Durante l'elemento Lui ha detto Chi è lui Quanti anni avevi Io ho 23 anni Ah Ed è arrivato Scotty Scotty Lui ha detto Chi è lui Mi piace E nel primo anno Di John Paxton Ha fatto dire gente Ok Questo è il suo primo anno E lui voleva togliere Tutti i vecchi giocatori Ah E mettere su Quelli giovani Ok E lui ha detto Chi è lui anche Mi piace Ok Sono stato lì Per pre-season Guardi Io sono diventato Proprio rookie Di Scotty Pippen Rookie significa Sì sì Giocatore giovane No E nel senso Io sono stato Su rookie Ah ok E nel senso Se Scotty Pippen Arriva in ritardo Per autobus Era colpa mia Sì E cosa ti succedeva Punizioni Sì sì Muta Ah Sì Io devo svegliarlo Quando andiamo Eri l'assistente Di Scotty Pippen Sì Prendi il giornale Fai il suo piatto Su aereo Certo Sì 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 Il suo ufficio Era Mark Butterstein E ha detto Guarda Io sto qua Con un contratto Di NBA Già fatto Ok Io voglio che tu fai Il lavoro per me E io neanche voglio pagarti Ok Io ho detto ok Bello Giusto Giusto Così si fa E io ho ancora L'unico giocatore Che è arrivato Con il suo contratto Già fatto E non dal draft E non da tutto Quel percorso standard Questa è una storia Fighissima Qual è il tuo rapporto Con gli altri giocatori NBA Prima citavi Hai detto una cosa Su Kobe Ad esempio Tu hai avuto modo Di avere a che fare Con Kobe Sì Allora Kobe È qualcosa Interessante Perché Allora Rookie Devi essere Se tu devi giocare Sette e mezza Rookie devi venire Quattro e mezza Ok Il fatto che io vengo Da Chicago Ho sempre detto Guarda Se io devo arrivare Quattro e mezza Rookie Io voglio Venire anche Prima Ah Io sono arrivato Alle quattro Ok C'è una partita Contro Lakers Questo era Lakers Quando aveva Payton Karl Malone Che hanno Sì Sono andato Sul campo Quattro In Quattro Four fifteen E c'era già lui Bagnato No no Perché ci sono Tante storie Che tu senti Su Youtube Però veramente Lui già Stava lì Com'è possibile Lui arriva Prima di me Lui deve giocare Quaranta minuti Per vincere E sta qua già E io ho chiesto a lui Quando lui è finito Io ho detto Guarda Io voglio Fare una differenza In NBA Che cosa devo fare Un classico Domanda E lui mi ha detto Devi fare un lavoro Più duro Dell'altro giocatore Semplicemente così Mamma mia È che Bisogna dirlo E poi bisogna farlo Che è una roba Complicata E tu hai giocato Insomma In degli Spurs Quelli che hanno vinto Il titolo Con dei giocatori Importanti Che hanno fatto La storia Del gioco Dell'NBA Chi è che ti ha impressionato Di più Dei tuoi compagni Di squadra In quell'anno Che anno era Mano Ginobili Ginobili Mano Ginobili è un giocatore Spettacolare Io sono Devo dire Grazie Il fatto che Riesco a vedere Lui fa lamento Ogni giorno Perché io sempre ho detto Tifosi Devi dire San Antonio San Antonio Ha fatto brutte cose Per Mano Ginobili In senso Perché lui stava giocando Con giocatori Bravissimi Tim Duncan Tony Parker Tifosi Neanche riesce a vedere Come forte lui era Perché il fatto che Lui ha giocato Con Tim Duncan Non deve fare Qualcosa C'erano loro Che erano Comunque molto forti Quasi oscuravano La sua forza Sì Però io sempre ho detto Se lui aveva Sua squadra Da solo Lui può essere Qualcuno Più grande Diciamo Dwayne Wade Perché Mano Ginobili Era fortissimo Certo E anche lui arrivava Dall'Italia Tra l'altro Quindi c'è sempre Un piccolo Un piccolo legame E Tim Duncan Non ti ha colpito? No Tim Duncan è il numero uno Molto silenzioso Come dicono? No Lui parla assai Però Ha il suo modo Di comunicare Ok È molto divertente Fa tanti scherzi Battute Però Perché Per Regoni Quando lui stava giocando Sempre Kevin Garnett E quando fai un pelagone A Kevin Garnett Lui è molto silenzioso Perché Kevin parla Certo Certo Trash talker Trash talk In the side Però Tim Duncan È un bravo giocatore Sempre stava parlando Il suo modo Certo Però qualcuno È molto bravo È Tony Parker Ah Sì Perché Suo padre Viene da Chicago Sì Ho avuto modo Ho avuto modo di conoscerlo Tony Parker Mi ricordo Ci siamo incontrati Su un set Di uno spot pubblicitario E la prima cosa che ha fatto Lui è arrivato con la palla E è andato dietro il tabellone Il primo tiro Non aveva preso Da dietro il tabellone Ha segnato Ok Ok Va bene Va bene così Niente da dire Fino a che anno Hai giocato praticamente in NBA Fino al 2009 2009 Quindi è incrociato comunque Molti dei giocatori Adesso ormai siamo già Quasi a un'altra generazione Cioè è rimasto forse solo Lebron Tra i più forti Di quel periodo E Chris Paul Lebron hai avuto modo Di incrociarlo Sì Abbiamo sempre giocato Contro lui Perché abbiamo Cominciato insieme Il 2003 È il suo primo anno È un anno importante Il 2003 Per molti giocatori Sì C'era Wade Bosch Anthony Kirk Heinrich Josh Howard Sì Sì Ce ne sono Eravate in tanti In quell'anno Quindi E invece Essendo tu di Chicago Jordan Michael Jordan Io guarda C'ho questo quadro qui Che si vede in teoria Anche nei video Dove Sono tutti e tre Lì Quelli che Insomma Io ammiro Ammiro di più Quello e mezzo Per uno nato a Chicago Appassionato di basket Credo che sia La cosa più grande Che sia mai esistita Guarda Tu non un'idea Il mio spogliottoio È proprio Il spogliottoio Di Michael Jordan Qualcosa che non sapevo Io ho scoperto Durante il periodo Di lockdown Stiamo guardando The Last Dance Ok E ho visto Cazzo Ma io avevo E ho fatto un squillo A mio train Ha detto Perché tu Non mi hai detto Lui ha detto Io ho pensato Che tu già sapevi Ma proprio lo stesso Lo stesso Lockroom Lì Come si dice Sì Perché era proprio qua Porta Era a fianco E lui ha scelto Questo per andare via Prima di media Entra Quindi quello più vicino Alla porta Per scappare via Dai giornalisti Ok E devo dire Prima volta Quando io ho conosciuto Michael Jordan Io stavo lì Prima Con i giocatori Stavo prepararmi Di andare In campo E è arrivato Questa mano Che mi ha preso Mia spalla Perché lui Ma le mani E' andata A mia tetta Ok E' incredibile Ok E lui Aveva un palo Dio Io voglio Il tuo autografo Sì In che momento Era un shock Tremendo Dentro Ho detto Oh Questo mago Mi ha toccato Ok Però in che momento Non può fare Perché anche io Sono giocatore Certo E' quello che poi Però fuori Che c'è Michael Dammi questa palla Che vuoi E lui ha detto Oh Non è per me È per mio figlio Che vuole tutti Autografi di squadra Ok Sono fatto Cioè tu hai fatto L'autografo Al pallone Che aveva Michael Jordan Per suo figlio Per suo figlio Sì Questo è incredibile È incredibile E quando lui è andato Via Mi ha toccato Vuole il mio autografo Non è incredibile Tutto bagnato Ci credo Bello 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 E quando poi Hai finito l'NBA Hai detto Vabbè immagino innanzitutto Per chiudere il discorso NBA Momento dell'anello Com'è andato Insomma Quel momento Ce l'hai conservato Da qualche parte Te lo supporti sempre con te Ogni tanto lo guardi Come fai Ogni tanto Nella casa Dentro un safe Dentro mia casa No È lì È lì Ogni tanto Ma dici C'è ogni tanto Comunque Quando ce l'ho Poi sei venuto in Italia A giocare Come mai hai scelto l'Italia C'è un motivo particolare O era una proposta buona No Infatti io ricordo Quando il mio prego Mi ha detto Guarda Perché io ho fatto Un anno Fermo Perché Mia mamma Non stava bene Non stava bene Ho fatto un pausa Per ricominciare Devo cominciare con una squadra Diciamo inferiore In che tempo Avellino è A1 Però Non era molto conosciuto Però lui mi ha detto Andiamo in Italia E ho detto No Io sono giocatore di NBA Non voglio andare in nessuna parte Tu devi trovare un contratto Un NBA Lui ha detto Guarda Purtroppo Noi non ne abbiamo niente Devi ricominciare Tua carriera Lì E io sono andato A Davolino Perché c'è un'opportunità Però quando sono andato Lì Ho trovato La mia moglie Ed è per questo Che sono 12 anni Che sei L'amore ogni tanto Ogni tanto ovviamente Fa cambiare le strade della vita E Cosa è stata la più grande Cioè Io immagino Quando giochi in NBA In qualsiasi franchigia Hai un livello Di organizzazione Di strutture Di qualsiasi cosa Il più alto Del mondo Arrivi in Italia Soprattutto Lato basket Purtroppo Così non è Qualsiasi sia la realtà Ci sono alcune Società Magari un po' più Facoltose Un po' più ricche Che hanno un po' più Di organizzazione Ma comunque lontana Diciamo dal mondo NBA Immagino anche Che poi la situazione In altre regioni Non sia la stessa Qual è stata la tua sensazione Quando sei arrivato Qualcosa molto noioso Certo Perché tanti giocatori Che quando loro Arrivano qua Vengono da l'università Non hanno un'esperienza Per arrivare da NBA Ok Un campione Per andare in volo Di economia Certo Perché abbiamo Nostro volo Airplane Ok Quando tu vai in albergo Sempre a quattro stelle A tua stanza Quando io sono arrivato qua Devo fare qualcosa In coppia Con i miei compagni di squadra Qualcosa che Per me Per piangere E anche Il modo di gioco E il modo di giocare È molto inferiore Nel senso In NBA Io sono stato Un Alla piccolo Però in Italia Sono stato Un Centro Ok E con me Marcus Green Un play Grandissimo In Italia Abbiamo solo fatto Pick and roll Ok Qualcosa per te Spettacolare Per vedermi Vai a schiacciare Però basket è qualcosa Più complessa C'è tante altre cose Che puoi fare Beh noi compensiamo Con il lato umano Avrei trovato sicuramente Tanto affetto Tanto No Cosa? No Compensiamo in Italia Quello che magari ci manca Come strutture Con l'umanità Con l'affetto Con il calore umano Diciamo E troviamo un equilibrio No Hai trovato comunque Sei stato bene umanamente Dico Con le persone No Io sono stato Con i tuoi compagni Io sono stato Meglio fuori Basket in Italia Ok Ok Quando noi abbiamo fatto Viaggi Per mangiare qua Ok Perché siamo stati In compagna Devo dire un esempio I americani Quando i americani Arrivano qua Vanno sempre Loro vanno Andare Sempre in American base Certo Di comprare le spese Sì Io ho detto Ragazzi ma siamo in Italia Non puoi Dove vai? Ma tu puoi mangiare Sei pazzo Per esempio Marcus Green Lui piace mangiare Datteri Sì Ok Lui vai a Gricignano American base Di comprare California Datteri Ok E ho detto Oh ragazzo Ma sei fuori Ma c'è Africa qua Tunisia Hai dati migliori Ok Certo In queste qua Voi hai una cultura Molto ricca Ok Il clima È bello Sì È qualcosa Più interessante Fuori di gioco Per me Per arrivare Da NBA Qual è il tuo obiettivo Adesso invece? Allora Obiettivo adesso Di creare un ambiente Di basket Perché? Sì Mio figlio Non gioca basket Ok E adesso Ho un obiettivo Di creare Un ambiente Proprio di basket Con una mentalità Che noi abbiamo In America Per lui A crescere dentro Però il problema È lui Sta giocando A calcio Lui fa il tennis Lui fa il patenaggio Fa tutto Tranne basket Tranne basket È perché tu ne parli troppo Questa cosa qui Guarda Sta succedendo anche Con mia figlia Che hai visto stamattina Non è stato Io l'ho portata apposta E ho detto Guarda Guarda questi come giocano Guarda Ti piace? Ma no Non è facile Tu adesso quanti anni hai? 41? 42 a 13 a giugno C'è un fisico incredibile Ti alleni tutti i giorni La prima cosa che hai fatto Quando hai visto Mary Era capire Come stavamo messi Quindi abbiamo capito Riki che dobbiamo Metterci sotto Anche noi allenarci Per seguire Linton E io ti ringrazio tanto Per essere venuto qui A fare questa chiacchierata E ci becchiamo alla prossima La prossima volta Che torni a Milano Ritorna qui al basement Che vediamo Quanti altri progressi Sono stati fatti E ci tengo a dirlo Ci sei qua tu Che sei la prova Che il basket Raccontato in un certo modo Arriva a tutti Ed è lo sport Più figo che ci sia Poi non bisogna fare Come dire Le gare Tra gli sport L'America è bella C'ha tanti difetti Anche l'America Però dal punto di vista sportivo Tu puoi essere appassionato Di NFL Di NBA Di Baseball Di hockey Non c'è problema Li puoi guardare tutti E non c'è una gara Sarebbe un giorno bello Arrivare a questo Anche in Italia Però voglio dire anche Guarda tu stai facendo Un grande lavoro Io riesco a vedere Il lavoro che tu fai Grazie No veramente È un complemento E se tutti vedono Che il lavoro Che tu fai E riesci a applicare Questo nella sua vita Anche questo È un grande successo Ti ringrazio Grazie davvero Guarda ci facciamo Fare l'applauso Senti che c'è il pubblico Grazie Linton Get in the game Get in the game Get in the game Get in the game Get in the game